Se vuoi io ho tempo per l'ultima missione, se vuoi che ne facciamo una, volentieri. Poi purtroppo oggi vi devo salutare un po' prima. Allora, vediamo un po'. Intanto consegniamo un po' di roba. Ok. Oh cazzo, me ne mancano un miliardo. Due venti, una missione di livello 8, le due missioni di Nell'Anda dei Cristalli, cazzo. Ah, pure lo Stigia, mi manca tutto, vabbè. Mi sa che oggi non riesco a completare le richieste. Taglia, va bene Bianchi, vai. So che la lanci tu, la so, lo so già. Infatti. Sarà una roba terribile, probabilmente. Perfetto. Dio! Va bene. Nelle distese brinose. What? Ok. Con che arma vengo? Sono in difficoltà. Brutto pazzo, 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 pazzo. Ritorno con l'HBG che mi sento un po' più sicuro, ho un po' di scudo almeno, so di avere un po' di scudo. Ritorno con l'HBG che mi sento un po' di scudo. Ritorno con l'HBG. Vieni come vuoi tanto muore comunque perfetto Siamo a posto Mantello in patto, ah cazzo 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 Cominciamo con quello Ciao Vabbè Dov'è dall'altra parte se lo svelto è strada Ah no dirà Alla parte se lo svelto è strada Niente c'è da urlare Ah no dirà Mamma mia Alla parte se lo svelto è strada Bello gatto Alla parte se lo svelto è strada Alla parte se lo svelto è strada Grazie a tutti Grazie a tutti Ti paralizzi cazzo Niente non si paralizza Che morente Grazie a tutti Grazie a tutti Che cosa cazzo abbiamo fatto In quanto tempo? Sei minuti? Va bene Bianchi tu sei un pazzo Sei un cazzo di pazzo Ok Ok Sei cazzo di minuti Un er gigante temprato Perché ti preoccupi sempre? Non lo so Ma come perché? Come perché? Un er gigante Aranziatore temprato Per dio È stato devastato Ha fatto tre salti Ha fatto Io non ho parole Dio mio Ma com'è possibile? Sei minuti e 08 Cioè io non ho mai visto Un tempo del genere Io in sei minuti Lo trovo in giro Per la mappa Lo devo cercare In sei minuti Capisci? Cioè capisci Qual è la differenza? Io devo andarlo A cercarlo Ci metto sei minuti Solo per vedere Dov'è Tipo il giorno Ti porto a fare Le speedrun Eh Le speedrun Ma che cazzo Ma vedi te Vedi Ah Peccato per i gioielli Peccato Ah ah Vabbè Vabbè Salvatela così Te la ricordi Sì sì Adesso questa parte qui Me la taglio tutta Non mi interessa Questa qua Me la devo salvare Che follia Che follia Vabbè Anche sono abbastanza rotte le armi Per carità di Dio Io non mi ero neanche tanto baffato Poi tra l'altro Non mi sono neanche baffato l'attacco Però Ah ah Va bene Va bene Va bene Sei minuti Andiamo a fare una taglia Così easy Mi ha un gigante Alzatore temprato Quanto ci mettiamo? Beh Sei minuti Ah ok Scusa Non ho parole Vabbè 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 Vabbè